Salve a tutti! Continuiamo oggi la realizzazione dello stadio di Baxingrono con la parte relativa all'analisi dello schematico. Nel precedente video ne avevamo già iniziato l'analisi con la parte relativa alla sua logica, quindi tutti questi circuiti qui di cui abbiamo già visto il loro funzionamento. Mentre oggi ci dedichiamo all'analisi della parte di potenza, quindi dedicata allo stadio di potenza del Baxingrono. Quindi troviamo in ingresso un generatore di tensione che simboleggia l'uscita dello stadio a mezzo ponte, quindi quello che si trova a monte del Baxingrono. Dopo troviamo subito un LDO che ha la funzione di generare la 12V per tutti i circuiti presenti sulla scheda, quindi sia la parte di logica e sia poi quella del driver che andrà a pilotare lo stadio di mezzo ponte. Nello specifico il driver sarà l'IR2184 in quanto in questa applicazione e con questa tipologia di controllo risulta essere quello più adatto. Sullo schematico non è stato riportato in quanto su LTSpice non esiste il modello di questo driver in quanto risulta molto banale nel suo funzionamento e quindi l'ho sostituito con due behavioral che ovviamente riproducono il suo comportamento reale. Per quanto riguarda invece i componenti principali dello stadio a mezzo ponte saranno utilizzati come MOSFET gli RFZ44N, un induttore del valore di 100 µH e un condensatore, ma in realtà saranno più condensatori messi in parallelo del valore totale di 1 millifarad. Per quanto riguarda i MOSFET c'è da dire che questi risultano essere quelli più adatti per quanto riguarda perdite e prestazioni per questa tipologia di applicazione. Inoltre c'è da specificare che sullo schematico sono rappresentati solo due attivi, mentre in realtà poi sulla scheda ce ne saranno quattro, quindi due per la parte inferiore e due per la parte superiore del mezzo ponte. Questo perché, come si vedrà in seguito, si vogliono ridurre le perdite di conduzione degli attivi, in quanto quando la corrente di uscita è nell'intorno dei 25 A, le perdite di questi MOSFET iniziano a farsi rilevanti, quindi per cercare di ridurle il più possibile è conveniente utilizzarne di più in parallelo. Per quanto riguarda invece l'induttore, questo risulta di un valore molto elevato se lo si confronta con altri valori di circuiti che si trovano in rete, ma il motivo di questa scelta è perché dopo alcune esperienze e alcuni fenomeni visti nei precedenti progetti, quello che voglio assolutamente evitare è che ci siano disturbi di condotte nella parte di potenza. E quindi per far questo bisogna ridurre il ripple che si viene a generare su questo componente, infatti se si dovessero verificare dei disturbi in alte potenze diciamo che le conseguenze non sarebbero piacevoli. Passiamo ora a visualizzare lo sbroglio del circuito sulle PCB. Ecco qui lo sbroglio del primo schedino dedicato interamente alla logica del Bach sincrono, possiamo chiaramente distinguere la parte dedicata alla generazione delle tensioni di riferimento, alla parte di current loop, alla parte di voltage loop, la parte di generazione dell'onda triangolare e infine la parte del comparatore, da cui poi da questi pin uscirà la PWM che andrà a pilotare il driver che si trova sulla scheda di potenza. Come si può vedere lo schedino è venuto davvero molto molto fitto, però fortunatamente sono riuscito a farci entrare tutti i componenti della logica. Ovviamente la parte divertente sarà poi andare a saldare tutta questa confusione di componenti sulla scheda, però insomma l'importante è che ci sta tutta. Queste invece sono lo sbroglio delle due schedine dedicate alla parte di potenza. Sulla prima troviamo il mezzo ponte con i quattro attivi, il driver, l'LDO e i condensatori che si trovano ai capi del mezzo ponte. Mentre sulla seconda schedina troviamo l'induttore che come si può vedere dall'aria sarà abbastanza grosso, i condensatori di uscita del back singrono e poi tutta la parte dedicata al sensing della tensione di uscita e della corrente di uscita. Particolarità di questo sbroglio sono oltre alla grande quantità di condensatori che si hanno sul mezzo ponte e sull'uscita, proprio perché le correnti saranno elevate, quindi c'è bisogno di più condensatori di tecnologia diverse messe in parallelo, ma c'è anche da notare che le piste sulla scheda sono raddoppiate e rafforzate. Infatti a causa delle alte correnti in gioco una sola pista di stagno non risulta assolutamente sufficiente, in quanto sono andato ad effettuare delle misure su delle piste di stagno su altre schede precedentemente realizzati e dai calcoli effettuati a quanto pare una pista di stagno realizzata come faccio io ha una resistenza di 0,1 ohm a metro che risulta essere troppo elevata per farci passare 25 ampere. Quindi non solo sono state raddoppiate, ma poi dalla parte superiore della scheda verrà messo in parallelo un conduttore di rame, perché è davvero necessario cercare di ridurre il più possibile la resistenza di queste piste, perché altrimenti la potenza persa risulta essere troppo elevata. E inoltre a causa delle cadute di potenziali che si avrebbero su questi cordoni, quello che succederebbe è che questo punto di massa della scheda si troverebbe a un potenziale diverso di quest'altro punto di massa della scheda e quindi si potrebbero avere problemi sulla parte di controllo per quanto riguarda il sensing della corrente e il sensing della tensione ed è proprio questo il motivo principale per cui non bisogna assolutamente risparmiarsi a gettare un sacco di rame e stagno almeno sulla parte di ground. Quindi per esempio questi due cordoni qui saranno in realtà quattro, quindi due dalla parte di sopra e due dalla parte di sotto. Almeno in questo modo sono sicuro di limitare fortemente questo fenomeno. Molto bene per questo video quindi è tutto, alla prossima!